In parte per cettori di reddito, di cittadinanza, di fatto, di professione, custodi, di armi e droga. Un gruppo di nove persone è stato scoperto nell'indagine che ha visto da questa mattina al lavoro 60 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno. Tutto è partito da una prima inchiesta, un primo sequestro di armi avvenuto nel maggio del 2019, scavando poi all'interno di un garage di Pagani attraverso un minizioso lavoro di indagini analizzando video e foto si è riusciti ad individuare i titolari effettivi. Si tratta di due persone, Giuseppe Dauri e Luciano Tiano Solferino, che avevano affidato a Nadia Adiletta e Carmine Graziano il compito di intitolarsi l'affitto del deposito e le chiavi dello stesso. All'interno le fiamme gialle hanno trovato un fucile mitragliatore dotato di silenziatore, un fucile a pompa, cinque pistole, quattro bombe a mano, oltre 500 cartucce di vario calibro, anche 20 chili di marijuana e svariati bilancini di precisione. In tutto, con ruoli diversi, finiscono agli arresti domiciliari nove persone, due anche in carcere. Si tratta di Mario Rossi e Giuseppe Vergati, che pur al di fuori di questa organizzazione criminale sono accusati di spaccio di sostanze superfacenti. Le prime luci dell'alba, 60 militari del comando provinciale della Guardia di Finanze di Salerno sono stati impegnati nell'esecuzione di questa misura, con l'effettuazione di perquisizioni presso le abitazioni dei soggetti attinti dalla misura. Quindi, sostanzialmente, sono intervenuti nell'agro nocerino sarnese, è uno degli arrestati, però si trovava ad Imperia. In questo momento particolare di emergenza Covid-19 sono operazioni particolarmente delicate. Per quanto si svolgano con l'utilizzo di tutti i dispositivi di protezione individuale, chiaramente c'è sempre la preoccupazione di dover intervenire nelle abitazioni di persone senza sapere esattamente che cosa e chi ci si trova di fronte. Nel corso della conferenza lei ha sottolineato le difficoltà di un'indagine che ha dovuto analizzare anche piccoli dettagli per poter risalire ai veri protagonisti, ai veri custodi, ai proprietari di questo arsenale. Sì, la particolarità di questa indagine è proprio la posizione di due soggetti in qualche modo chiamati a sacrificarsi, a fare un po' da custodi, prendendosi quindi in prima persona la responsabilità della detenzione di questo arsenale. chiaramente essendo retribuiti per questa loro attività. Infatti sicuramente una dei due arrestati, quindi la Adiletta, la donna, dalle indagini è emerso chiaramente che percepiva circa 1000 euro al mese per questo suo impegno. Infatti quando sono stati sentiti hanno assunto un atteggiamento reticente, non hanno fornito alcun elemento utile allo sviluppo successivo delle indagini. Quindi la possibilità di risalire agli ulteriori soggetti responsabili è stata ricavata dagli investigatori, dai militari della Guardia di Finanza che hanno analizzato le immagini delle videocamere posizionate nella zona, hanno evidenziato tutte le autovetture che in qualche modo transitavano con una certa frequenza e dalle targhe poi con un'attività di osservazione e di petinamento in qualche modo hanno individuato i potenziali indiziati. Sull'agrono Cernino Sarnese, benché da tempo non intervengano affermazioni significative, diciamo come dire, giudiziarie sulla esistenza di gruppi criminali organizzati tipo mafioso, però la camorra esiste e continua ad operare.